Modica ha ospitato un convegno sulla ecosostenibilità. Esperti del settore, manager e tecnici hanno parlato anche con gli studenti dell'Istituto Archimede per spiegare ai ragazzi da dove cominciare per garantire a tutti un futuro migliore. Le parole magiche sono educazione ambientale e mobilità sostenibile. Si parla innanzitutto di rispetto per l'ambiente, una terminologia attuale che troppo spesso rimane però nell'elenco delle cose possibili. Come passare dalla teoria alla pratica? Cosa ha significato questo appuntamento tecnico-scientifico e quali prospettive ha aperto? La risposta all'ingegnere Claudio Ricchi, esperto di tecnologia per il rispetto dell'ambiente. Le prospettive sono ottime, i presupposti sono molto buoni. Abbiamo incontrato dai professori universitari a esperti nello studio di fattibilità di progetti che porteranno a un enorme beneficio per quanto riguarda il sistema di viabilità. Logicamente c'è bisogno di studiare sistemi innovativi che riducono l'inquinamento, portano in modo semplice e veloce le persone, il turismo, perché l'elemento fulcro secondo me per tutto quello che è il territorio è la facilità con cui le persone si muovono a vedere centri culturali, gli interessi più grandi che tutta l'Italia ha a disposizione. La tecnologia deve sposarsi con l'ambiente, non ci devono essere più sistemi che ovviamente non sono adattabili e rispettosi dell'ambiente, quindi riduzione dell'inquinamento, maggiore efficienza tra costi e benefici. E' necessario delle infrastrutture che sono molto leggere, snelle, che permettono di non bloccarsi sulla burocrazia. Nel territorio, quindi a grande distanza, ci sono possibilità di tecnologia come SkyWay, SkyWay è una tecnologia avanti rispetto ai canoni tradizionali delle infrastrutture che oggi utilizziamo sul territorio e ci permetterà di avere una ravvicinanza delle varie città. Parliamo del territorio siciliano, collegare Palermo a Modica, a Catania, a Trapani, cioè gli estremi della Sicilia e raggiungerli in poco tempo in sicurezza, senza incidenti, è una grande importanza. Un secondo elemento, ma non da sottovalutare, è la mobilità sostenibile in locale, cioè quando io raggiungo una località turistica, devo avere delle possibilità di muovermi in modo semplice, senza inquinare, con la mobilità elettrica. Coordinatore dell'evento modicano, l'ingegnere Angelo Lucenti, cofondatore della Chilometro Zero Energy. Per quanto riguarda invece la tecnologia, la mobilità sostenibile locale, quindi nell'amministrazione comunale o provinciale, noi stiamo puntando su un altro tipo di mobilità, che è la mobilità elettrica, perché oggi le macchine a combustibile sono altamente inquinanti e quindi si deve ridurre l'impatto ambientale, quindi l'emissione del CO2 nell'atmosfera. Sono più economiche e danno la possibilità, facendo un progetto di e-car sharing, quindi riducendo la quantità di autoveicoli gestite all'interno di un centro storico, per esempio, avremmo la possibilità di portare il turista dalla struttura ricettiva, renderlo autonomo o magari facendo dei percorsi guidati per visitare i luoghi storici. Si pensi, per esempio, nel nostro contesto comunale a Modica ci abbiamo il trenino, il trenino che ha gasolio, si potrebbe eventualmente fare quello che si chiama un retrofit, quindi convertire quel motore a combustibile con un motore elettrico e quindi fare il percorso turistico guidato, magari portando il turista direttamente con una cosa guidata anche in un agriturismo, quindi fare un percorso oltre che culturale, ecogastronomico. C'è dunque anche un percorso ecogastronomico. In che cosa consiste e come si sposa con il territorio? L'imprenditore Salvatore Curcio chiama a definirsi ingegnere contadino. Sono dei percorsi che stiamo cercando di creare insieme a degli amici che portino il visitatore del nostro territorio a scoprire le bellezze delle nostre zone, bellezze che poi sono bellezze alimentari, bellezze naturalistiche, bellezze culturali, attraverso dei trasporti, quindi dei sistemi che colleghino in rete dei punti nevralgici, chiamiamoli così, del nostro territorio della Val di Noto e legati alle piccole aziende agricole che, come la mia, insomma, fanno sostenibilità a 360 gradi per immergere appunto il turisto e il visitatore in una dimensione che abbia il massimo della sostenibilità. Chiaramente questi percorsi saranno fatti con dei mezzi assolutamente elettrici la cui energia che serve appunto per ricaricarli sarà prodotta in loco nelle varie aziende che andremo a toccare con questi mezzi in cui i turisti avranno modo di gustare i prodotti ma allo stesso tempo conoscere le persone che quel prodotto lo creano fin dalla terra e quindi sono percorsi virtuosi che vogliamo creare per poter far sì che il nostro territorio venga conosciuto in tutte le sue sfaccettature. Siamo in una fase abbastanza avanzata del progetto, insieme ad alcuni colleghi stiamo elaborando come dire le linee guida, stiamo cercando di coinvolgere le aziende agricole che credono nei valori della sostenibilità, nei valori dell'eletticità perché sostanzialmente parliamo di questo. In questi giorni abbiamo avuto la visita di persone appunto da fuori che insieme a noi hanno portato il progetto in giro attraverso conferenze, attraverso dibattiti e stiamo cercando di far capire nel nostro piccolo che comunque è possibile applicare un modello sostenibile sia al settore energetico, sia al settore ambientale che al settore agricolo. Io qui, ripeto, vesto l'immagine dell'ingegnere contadino perché ho portato l'esempio fin dalle scuole, nelle conferenze che abbiamo fatto, del modello sostenibile applegato all'agricoltura. Cosa significa modello sostenibile? Oggi forse si fa abuso di questa parola, sostenibilità un po' dappertutto. Applicare un modello sostenibile significa cercare di realizzare processi e prodotti impattando in maniera minore possibile sull'ambiente e sul pianeta. Quindi in agricoltura significa realizzare produzioni senza utilizzare la chimica, senza utilizzare sostanze di sintesi in tutti i processi che portano poi alla produzione del prodotto. L'esempio banale del grano, quindi andiamo dalla semina, raccolto, lo stoccaggio senza l'utilizzo di alcun prodotto chimico, ma poi la trasformazione va fatta anche attraverso impianti che sono alimentati da fonti rinnovabili. I trasporti devono essere, come dire, anche quelli legati alle fonti rinnovabili. Il sogno è quello di creare l'economia circolare, quindi chiudere il percorso che porta dalla terra alla tavola utilizzando tutte le fonti sostenibili che si possono avere a disposizione. Sulla mobilità sostenibile c'è una start-up innovativa. Ce ne parla l'ingegnere Carlo Cappello, cofondatore di Kilometro Zero Energy. L'idea del nostro progetto nasce dall'esigenza di voler dare delle risposte concrete a problemi reali, bisogni delle persone fondamentalmente. La mobilità, come la conosciamo oggi, sappiamo non è più sostenibile, ha bisogno di un cambiamento radicale e noi ci proponiamo sul mercato per dare una risposta a questo, come con la mobilità elettrica. Crediamo che la mobilità elettrica sia il futuro, assolutamente. Pensiamo però che non debba essere un futuro troppo lontano. Ci stiamo impegnando perché sia un futuro immediato, che questo futuro di cui parliamo sia già domani. Come? Attraverso la creazione di un circuito integrato di servizi che vanno dalla progettazione di un'infrastruttura diciamo on-site che sfrutti anche le fonti rinnovabili come motore principale della mobilità dell'energia fino ad un supporto tecnologico e informatico che permetta a tutti i cittadini, a tutti gli usufruitori di questa rete di muoversi con serenità, con facilità e soprattutto in maniera naturale. Noi pensiamo che la tecnologia, quella buona, quella che effettivamente ci risolve i problemi sia lo strumento che ci fa progredire, che ci fa andare avanti. La mobilità elettrica in quest'ottica si pone al centro come una soluzione pulita, rinnovabile, sicura ma anche libera, libera perché ci permetterà di spostarci sapendo che il nostro impatto ambientale si ridurrà praticamente a zero e quindi quello che risparmiamo oggi come emissioni di gas serra per esempio sarà un problema in meno che i nostri figli dovranno affrontare domani. Grazie.